e bene guidati da Beatrice procediamo anche noi il nostro viaggio con Dante e Susu attraverso i vari cieli del paradiso da questi schemi potete vedere come anche il paradiso sia ordinato gerarchicamente con diversi gradi di beatitudine a seconda della maggiore o minore lontananza da Dio quindi i cieli più vicini alla terra contengono i beati che sono in sostanza meno beati di quelli che sono nei cieli più vicini all'empire o il luogo dove si trova Dio e i beati più beati di tutti sono quelli che stanno nella cosiddetta rosa dei beati detta anche candida rosa che qua vi presenta schematizzata in forma di diamante altrove in forma di anfiteatro che di fatto la candida rosa è una sorta di anfiteatro una struttura che ricorda in quanto tale la forma di un fiore di una rosa in cui i santi proprio i più beati di tutti e lì è la sede naturale poi di Beatrice sono seduti ed eternamente volti alla contemplazione di Dio e quindi questa per il medioevo per la teologia mistica medievale è la massima beatitudine immaginabile andiamo però a vedere i 9, no 3 per 3 9 quindi sempre la simbologia numerica del 3 e dei suoi multipli partire dalla trinità che troviamo alla base della vina commedia andiamo dicevo a vedere i vari cieli che Dante attraversa per avvicinarsi piano piano verso Dio i cieli sono 9, Dante e Beatrice oltrepassano prima la sfera del fuoco e si ritrovano quindi nel primo cielo ogni cielo è dedicato al nome di un pianeta, a uno dei pianeti, anche la luna veniva considerata un pianeta e così come nell'inferno c'erano i mostri custodi nel purgatorio gli angeli custodi qua ogni cielo contiene una diversa schiera di angeli sempre più importanti chiaramente man mano che si sale verso Dio e in ogni cielo si trova una certa categoria di beati, di santi il cielo più basso, il primo che incontrano è il cielo della luna dove ci sono gli angeli qui si trovano gli spiriti che non hanno adempiuto ai voti e in questo cielo si trova per esempio Costanza d'Altavilla, la madre dell'imperatore Federico II e un'altra anima del Toscana, quindi conosciuta da Dante, è Piccarda Donati un'anima che appunto non aveva potuto adempiere i voti perché pur essendo suora era stata sposata a forza diciamo salendo ancora abbiamo il secondo cielo, il cielo di Mercurio dove si trovano gli arcangeli e gli spiriti beati che hanno qui dimora sono gli spiriti che operarono per raggiungere onore e fama quindi si sono comportati bene sì ma non tanto per salvarsi l'anima o per amore di Dio quanto per ottenere onore e fama quindi gloria in terra nel terzo cielo che è il cielo di Venere si trovano i principati una gerarchia di angeli più potente degli arcangeli e come beati si trovano i beati, si trovano gli spiriti che si sono comportati bene quindi hanno agito bene spinti però dall'amore, da una forte inclinazione all'amore più che dall'amore di Dio quindi da una passione terrena, dal voler bene agli altri nel quarto cielo che è il cielo del sole ci sono le podestà che sono di nuovo delle gerarchie una gerarchia angelica ancora più potente delle precedenti e qui nel quarto cielo si trovano gli spiriti sapienti nel quarto cielo, il cielo del sole, siamo arrivati quindi ai canti diciamo centrali del paradiso tra cui in particolare il canto 11 e il canto 12 abbiamo due personaggi molto importanti su cui purtroppo al momento non abbiamo modo di soffermarci però sono due canti diciamo l'11 e il 12 del paradiso che sono dedicati agli ordini mendicanti con gli ordini appunto dei frati e accettati all'interno della chiesa cattolica come abbiamo visto in storia l'ordine francescano e l'ordine dominicano che sono i più autentici coloro che maggiormente vivono le prescrizioni, le indicazioni del Vangelo e le applicano nella loro vita e quindi ecco che abbiamo dapprima l'incontro con San Tommaso d'Aquino che è anche un teologo e filosofo della chiesa il quale tra l'altro è il massimo, il più famoso rappresentante dell'ordine dei dominicani il quale teste l'elogio, l'elodi di San Francesco fondatore dell'ordine dei francescani allo stesso modo si può dire rendendo il favore nel canto successivo, il canto dodicesimo sempre nel cielo del sole tra gli spiriti sapienti abbiamo l'incontro con San Bonaventura da Bagno Reggio che è il massimo esponente dell'ordine francescano il quale tesse l'elodi del fondatore dell'ordine dominicano cioè San Domenico di Guzman tra i due canti il più famoso è quello l'undici quello in cui San Tommaso narra di Eloda San Francesco San Francesco d'Assisi quindi un canto del paradiso quasi a metà del paradiso completamente dedicato al Santo di Assisi procedendo verso l'Empirio abbiamo il quinto cielo il cielo di Marte le gerarchie angeliche che dominano questo cielo sono le virtù e qua si trovano gli spiriti combattenti per la fede nel sesto cielo che è il cielo di Giove dove le gerarchie angeliche si chiamano dominazioni qua si trovano gli spiriti giusti nel settimo cielo il cielo di Saturno dove vi sono come gerarchia angelica i troni si trovano gli spiriti contemplativi nell'ottavo cielo il cosiddetto cielo delle stelle fisse dove la gerarchia angelica dominante sono i cherubini assistiamo al trionfo di Cristo, di Maria e degli angeli e in particolare nell'ultimo cielo, il nono cielo che si chiama Cristallino o Primo Mobile dove ci sono i serafini i più potenti tra tutti gli angeli lì assistiamo proprio al trionfo degli angeli ecco quindi che superati tutti i nove cieli anche qui Dante e Beatrice chiaramente hanno incontrato diversi personaggi santi e personaggi famosi con cui si sono fermati a parlare oppure visioni simboliche tutte piene di luce quindi se l'inferno era il regno dell'oscurità il purgatorio ha un'atmosfera terrestre dove si alternano giorno e notte quindi luce e buio il paradiso è assolutamente il regno della luce ecco che si trovano di fronte alla candida rosa la rosa dei beati appunto è questo anfiteatro in cui tutti i beati più beati di tutti stanno eternamente a contemplare Dio ed è questa la sede di Beatrice che quindi ritorna trasfigurata e ancora più bella di quanto non fosse mai apparsa prima a Dante già salendo i vari cieli del paradiso Beatrice era diventata sempre più santa sempre più bella nel suo aspetto e adesso ritorna quasi magneticamente attratta nel suo luogo nella sua sede tra i beati della candida rosa e la terza guida che sostituisce Beatrice proprio per l'ultimo pezzetto fino a Dio è San Bernardo di Chiara Valle qua vedete in una miniatura e questo santo accompagna Dante alla visio dei Beatrice per quanto appunto beata e santa era comunque sempre una donna amata da Dante una musa ispiratrice e non comunque una santa riconosciuta dalla chiesa per cui Dante sceglie un santo ufficialmente riconosciuto San Bernardo per essere accompagnato alla visio dei cioè alla visione di Dio e quindi ci avviciniamo ampliando lo schema nella candida rosa si trovano anche alcuni personaggi come i padri della chiesa che chiaramente non potevano essere stati battezzati perché sono vissuti prima di Cristo ma quando Cristo morendo il giorno del venerdì santo appunto scese agli inferi episodio di cui Dante ci aveva già accennato all'inizio dell'inferno parlando di un terremoto appunto che era avvenuto nel limbo non tanto tempo dopo che Virgilio era morto ecco appunto che Cristo trasse via appunto dagli inferi i padri della chiesa e li portò in paradiso ed è per questo che abbiamo la divisione della candida rosa in due parti i credenti in Cristo venuto che sono i santi ufficiali della chiesa e i credenti in Cristo venturo cioè coloro che hanno creduto in Cristo prima ancora che egli nascesse quindi tutti i profeti e i patriarchi della Bibbia e appunto al centro del dopo tutti i cieli abbiamo Dio che è rappresentato da Dante come una sorta di sfera ma qua praticamente abbiamo poi il tema dell'ineffabile chiaramente non si può parlare di Dio non si può descrivere Dio né in immagini né a parole e però per accedere alla visione di questo grande mistero Dante ha bisogno non solo di una guida santa come San Bernardo ma anche dell'intercessione della Vergine Maria ed è per questo che San Bernardo per Dante si rivolge alla Madonna e le rivolge una bellissima preghiera con cui le chiede di permettere al pellegrino di vedere il volto di Dio così diciamo e per quanto riguarda la famosissima preghiera alla Vergine che si trova nell'ultimo canto del paradiso trentatresimo vi ho inserito alcuni link uno ha un testo con la parafrasi quindi è il testo che stiamo per leggere della preghiera alla Vergine con la parafrasi dovrebbe essere piuttosto semplice per voi seguirlo e poi se volete approfondire maggiormente avete il link a una pagina dove c'è il testo commentato e poi per chi vuole approfondire maggiormente qua c'è semplicemente un'interpretazione critica quindi uno studioso che interpreta e fornisce delle chiavi di interpretazione di suggerimenti di comprensione ulteriori di questo testo con ovviamente dei collegamenti culturali e andiamo adesso a leggere la preghiera alla Vergine qua vediamo per prima la Vergine Maria al centro della candida rosa dei beati di nuovo in un'incisione di Doré di Gustavo Doré e qua andiamo adesso a leggere la preghiera alla Vergine che è l'ultimo testo della Divina Commedia l'ultimo passo che leggeremo grazie a tutti